Il Diving Yoga in collaborazione con le altre associazioni è organizzato per il prossimo 19 dicembre un evento aperto a tutti presso il porto di Agropoli, la posa sui fondali di una natività creata per l'occasione dall'artista Antonio Guida. Imbarcazioni accessibili anche ai portatori di disabilità saranno disponibili gratuitamente per accompagnare chiunque voglia assistere dalla superficie all'evento, visibile attraverso la videotrasmissione in diretta di quanto avverrà sott'acqua. L'evento è aperto a tutti i subacui e non l'appuntamento è dunque alle ore 9.30 al porto di Agropoli presso le imbarcazioni del Diving Yoga nella zona ex pista di atterraggio per gli elicotteri. Prima di essere imbarcata la natività sarà benedetta dal parroco Don Carlo Pisani.